In base al piano di riequilibrio della precedente amministrazione, i palermitani avrebbero pagato circa 100 milioni di euro in più in due anni e invece il Comune di Palermo adesso scopre di avere addirittura 310 milioni e centesimi di crediti per trasferimenti non dovuti e non pagati, di cui quasi 60 milioni nel 2020-21 e oltre 251 nel 2022. Tutto questo grazie all'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2022-2024, nonché all'imminente definizione del bilancio consolidato 2021, che ha già ricevuto parere favorevole dal Collegio dei Revisori. Il Comune torna in bonus, migliora la liquidità, esce dall'attuale situazione che prevede tra l'altro il blocco dei trasferimenti da parte dello Stato per effetto dei ritardi accumulati. Si tratta di un bilancio tecnico, poiché è pervenuto in prossimità della scadenza dell'esercizio finanziario, ma che consente al Comune di presentarsi all'appuntamento della rimodulazione del piano di riequilibrio in condizioni di migliorata sostenibilità finanziaria. La Galla, in questi mesi tenuto conto della non condivisione delle misure declinate nel piano di riequilibrio predisposto dall'Aggiunta Orlando, ha immediatamente, dopo il proprio insediamento, comunicato formalmente alle autorità competenti la volontà di rimodulare il piano di riequilibrio, il cui termine ordinario di scadenza è stato spostato al 31 marzo 2023. Proprio l'accordo con lo Stato era, e continua a costituire, uno dei cardini intorno al quale definire ulteriormente il complesso processo di risanamento del bilancio comunale. Una bozza dell'accordo è stata trasmessa dal Comune al Ministero dell'Interno, in attesa di formale condivisione e di prossima sottoscrizione.